in esaurimento l'ondata di cielo e neve che ha investito la regione Liguria domani prevista La famiglia di Fabio Cozzani, trovato morto all'interno di una carrozzeria di Bezzano chiede l'aiuto di testimoni nella trasmissione di Rai 2, i fatti vostri Spezia Calcio domani al picco, Mister Gallo chiede alla squadra grinta e cattiveria per battere il Cesena Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TLS giornale è in via di esaurimento l'ondata di maltempo che ha investito tutta la regione le temperature rigide della scorsa notte hanno creato non pochi digiagi alla circolazione sia viaria sia ferroviaria vediamo cosa è successo nel servizio di Laura Italia Notte di ghiaccio e di passione quella di ieri automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati per ore lungo la via Aurelia sul passo del Bracco a causa del ghiaccio che si è formato sulla strada per il gelicidio dopo una giornata di nevicate intense e temperature sotto zero a complicare la situazione un mezzo pesante che è finito di traverso contribuendo al blocco del traffico automobilisti e camionisti si sono trovati così costretti a percorrere la via Aurelia a causa della chiusura della 12 nel tratto Spezzino ieri sera dovuto anche in questo caso alla formazione di ghiaccio che aveva causato tre diversi incidenti l'autostrada è stata poi riaperta solo alle prime luci mentre per l'Aurelia c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Genova che a mezzogiorno sono riusciti a rimuovere il tir rimasto in bilico pericolosamente in località tagliamento intanto molti hanno passato la notte all'addiaccio e nelle strutture ricettive della zona Durissimo il presidente della provincia Giorgio Cozzani che si scaglia contro Salt sono stupito e contrariato di quanto abbiamo subito per la totale inesistenza di adeguati interventi sulla nostra rete autostradale Cozzani ha sottolineato come gli utenti siano sottoposti a pedaggi tra i più esosi in Europa per un servizio non all'altezza e ha proposto la gestione dei tratti autostradali in capo a province e alle città metropolitane Ma oggi è stata anche la giornata del gelicidio in Alta Valdivara con una situazione ancora difficile su alcune strade diversi gli interventi dei vigili del fuoco anche a supporto di ambulanze che non riuscivano a percorrere le strade trasformate in lastre gelate Ha tenuto invece la tanto bistrattata rete provinciale dove sono state versate tonnellate di sale registrati poi ritardi sulla tratta ferroviaria Sul caos ferroviario che sta interessando da diverse ore la Liguria piove un esposto del Codacons che sarà presentato oggi alle procure della Repubblica di Genova, Imperia, Savona e La Spezia Migliaia di pendolari hanno vissuto in queste ore un'odissea a causa del blocco della circolazione ferroviaria su numerose linee regionali tra cui la Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia denuncia il Presidente Carlo Rienzi Disagi del tutto ingiustificati dal momento che il maltempo e le basse temperature erano previste da giorni e dovevano essere adottate tutte le misure utili a garantire la regolarità del servizio I cittadini coinvolti nei disagi odierni devono essere risarciti per i danni subiti e in tal senso Trenitalia deve disporre precisi indennizi in favore dei viaggiatori conclude il Codacons E il maltempo ha bloccato i rifornimenti diretti alle mucche della tenuta di Marinella allevatori intervenuti per garantire il foraggio è a causa della morsa di gelo siberiano che continua a gravare sulla nostra penisola che la mandria della tenuta di Marinella ha rischiato di rimanere senza rifornimenti il maltempo che ha messo in ginocchio tutta Italia, compresa la nostra regione ha causato gravi perdite in ambito soprattutto agricolo e florovivaistico e causato anche forti disagi alla circolazione stradale Il gelicidio della scorsa notte ha inoltre ostacolato le consegne di molti prodotti tra cui quelle di prodotti agricoli indirizzati ai negozi e supermercati nonché quelle per i rifornimenti degli animali da stalla Anche il camion con il rifornimento che doveva garantire l'arrivo entro oggi di fieno e cibo per la mandria di Marinella si è trovato bloccato sull'autostrada Cisa a causa del ghiaccio e delle avverse condizioni meteo che hanno obbligato la chiusura del tratto stradale Ed è per questo che si sono prontamente riuniti il delegato confederale Bruno Rivarossa il vice delegato confederale Goffredo Francesco e i tecnici di Coldiretti La Spezia nel tentativo di trovare una soluzione all'emergenza che si è presentata sin dalle prime ore della mattinata Non appena giunta la notizia dell'impossibilità di approvvigionamento degli animali Coldiretti si è attivata per fare in modo che le mucche non passassero i giorni più freddi dell'anno senza cibo e grazie alla collaborazione degli allevatori della zona di Marinella e Sarzana al loro cuore e alla loro forza è stato possibile garantire per oggi e domani tutto il necessario per le oltre 600 mucche di Marinella Il rifornimento di fieno e cibo è arrivato nella stalla nel primo pomeriggio di oggi Il prefetto della Spezia ha revocato il divieto di circolazione dei mezzi aventi massa complessiva autorizzata superiore a tonnellate 7,5 con esclusione della strada provinciale 566 dal chilometro 12 comune di Sesta Guadano fino al termine dell'Arteria in località San Pietro in comune di Varese Ligure e della strada provinciale 523 per il tratto attraversante il territorio provinciale nonché per le arterie provinciali che si innestano su tali tratte Così come era accaduto durante la prolungata all'erta meteo per le forti piogge e le mareggiate dello scorso dicembre, l'Evanto esce anche dall'emergenza neve e ghiaccio con disagi limitati grazie all'efficace funzionamento del servizio di protezione civile coordinato dal comune In questi giorni caratterizzati da un brusco calo delle temperature dovuto all'arrivo di una gelida perturbazione di aria fredda dal nord molte sono state le problematiche che le istituzioni e le associazioni di volontariato hanno dovuto affrontare Di questo ci parla nella puntata del salotto del signor Rossi in onda questa sera alle 21.30 vediamone un estratto Tornando al tema centrale che era quello del freddo dell'emergenza freddo diciamo che l'abbiamo superata bene ecco se possiamo andare alla conclusione Don Luca è andata bene mi sembra la fine della cosa è andata bene devo dire che grazie proprio anche a quella che è stata la fattiva collaborazione in rete quello che è stato poi alla fine il mettere a disposizione evidentemente viviamo anche come missione un po' del nostro tempo appunto siamo in quaresima come Caritas viviamo anche molto questa dimensione della carità ma in ogni caso quaresima non quaresima quando è freddo è freddo e quindi si risponde anche proprio con quella che è la struttura che come prima è stato detto se c'è una organizzazione se c'è una cura poi riesce anche a rispondere con la maniera elastica di cui poco fa sia Luisa che il Presidente hanno parlato ma anche il Direttore del Pronto Soccorso è chiaro che si si adatta alla situazione in base a quella si si calza nella situazione che bisogna affrontare e si cammina insieme e questo è stato devo dire affrontato bene quindi direi che in questi giorni abbiamo risposto bene prosegue l'emergenza freddo perché rimaniamo aperti fino ancora tutto marzo però ovviamente se dovesse un pochino mitigarsi il clima quindi poi in base a chi è in casa non mandiamo via nessuno ci mancherebbe però magari calderanno un pochino i posti e poi il senso è che dopo colazione al mattino fatta in Cittadella si possa uscire durante il giorno transitare dalle mense poco fa menzionate poi alla sera si ritorna in dormitorio questo è un po' il disegno complessivo poi è chiaro che via non si manda nessuno quindi chi ha bisogno di stare in casa può rimanere e ci mancherebbe in un posto a cui ditecato e dalla strada non ci finisce non ci mandiamo nessuno anche perché fuggiremo alla nostra missione perché poi comunque ci mancherebbe altro insomma a di là dell'aspetto confessionale insomma cerchiamo un po' tutti insieme anche i comuni con i quali collaboriamo di evitare che nessuno rimanga testato insomma una piccola alcova dove dormire confezionare droga è questo quello che hanno trovato gli agenti del reparto di sicurezza e decoro urbano della polizia municipale tra Pegazzano e Biassa il blitz è scattato oggi e la municipale ha stanato tre uomini seguendo le tracce sulla neve nella struttura erano presenti tre uomini di 23, 25, 29 anni tunisini e clandestini gli agenti della municipale li hanno presi letteralmente con le mani nel sacco perché stavano confezionando alcune dosi di droga in particolare gli agenti hanno trovato 25 grammi di hashish e 15 grammi di eroina un bilancino di precisione 750 euro in contanti per la municipale si trattava di un vero e proprio centro di spaccio dove la droga veniva ceduta la tragica morte dello spezzino Fabio Cozzani trovato senza vita con ferite alla testa all'interno di un magazzino di Vezzano Rigore lo scorso 6 febbraio rappresenta un fatto di cronaca pieno di zone d'ombra e la famiglia al fine di sollecitare i contributi testimoniali di chiunque possa essere in grado di fornire elementi utili all'inchiesta aveva comunicato attraverso il proprio legale l'avvocato Buondonno la partecipazione alla trasmissione televisiva direi due i fatti vostri la trasmissione condotta da Giancarlo Magali è andata in onda nella mattinata odierna in studio il fratello Maurizio Cozzani e l'avvocato insieme hanno ripercorso l'intera vicenda fino al momento della sparizione dell'uomo il dramma di mio fratello ha spiegato Cozzani matura tra le 20 e 30 alle 20 e 45 perché sparisce perdiamo i contatti con lui anche per il presentatore direi due la vicenda rimane avvolta nel mistero è davvero un rebus ha detto il legale nessuno finora nemmeno gli organi inquirenti riescono a dare una spiegazione a chiunque l'appello a chiudere l'appello del fratello Maurizio se qualcuno avesse visto o sentito lo prego di farsi avanti arrivano dal governo oltre 5 milioni di euro per l'impiantistica sportiva Ligure ben 39 gli interventi sono stati finanziati in tutta la regione da Ponente a Levante nello specifico per il territorio Spezzino si tratta di quattro interventi di cui uno a Carrodano una a Framuna e due a Zignago per un totale di oltre 500 mila euro dopo l'apertura delle cantiere della strada della Ripa avvenuta sabato scorso per la realizzazione dei lavori del primo lotto da parte del raggruppamento temporaneo di imprese a cui sono state affidate le opere oggi IRE la società in house delle infrastrutture di regione Liguria ha provveduto all'invio alla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del bando per la progettazione esecutiva del secondo terzo quarto lotto in questo modo è stato mantenuto l'impegno di regione Liguria di avviare senza soluzioni di continuità gli interventi per il definitivo superamento delle criticità del versante e della difficoltà di transito il valore della progettazione esecutiva dei lotti 234 ammonta a 360 mila euro circa a cui si vanno ad aggiungere 3,7 milioni di euro già stanziati dalla giunta regionale per la realizzazione dei lavori ed ora come di consueto la nota settimanale a cura di Riccardo Sottanis dal governo in arrivo nuovi soldi per la via dell'amore ma manca un progetto definitivo vediamo il servizio lo avete sentito dal telegiornale finalmente i soldi per i lavori su via dell'amore chiusa dal 2010 ci sono il comitato interministeriale per la programmazione economica ha infatti sbloccato i 7 milioni provenienti dal ministero dei beni culturali e così con i 3 milioni del ministero dell'ambiente e i due messi a disposizione della regione si arriva alla bella cifra complessiva di 12 milioni di euro verrebbe da dire allora è fatta presto il sentiero più famoso al mondo che collega in uno scenario unico rio maggiore a manarola chiuso per frane potrà essere nuovamente percorribile ma spegnere gli entusiasmi e l'assessore regionale che avverte i soldi a disposizione potrebbero non bastare per saperlo occorre attendere il progetto che purtroppo deve ancora essere elaborato occorrerà dunque altro tempo peccato perché oggi i soldi per intervenire ci sono nelle prossime settimane la regione incontrerà i responsabili del parco nazionale e gli amministratori del comune di rio maggiore per decidere insieme le linee guida del progetto che dovrà essere elaborato al più presto per accelerare l'avvio dei lavori di un'opera che non lo dobbiamo dimenticare ha sempre fruttato milioni di euro visto l'altissimo numero di visitatori se tutto procederà per il verso giusto si spera di aprire i cancelli nel 2021 ma le incognite sembrano essere ancora molte compresa quella dei costi una bella notizia arriva però dal ministero dell'ambiente via dell'amore è entrata in arte bonus il progetto che consente ai privati che concedono contributi a favore del patrimonio culturale di ottenere agevolazioni fiscali fino al 65% forse è il caso di sollecitare dunque i privati a contribuire ad un'iniziativa che può incrementare i flussi turistici non solo a livello provinciale e regionale lasciati fuori fino a questo momento i privati potrebbero risolvere se ci saranno tutti gli ultimi problemi finanziari ce lo auguriamo il parco nazionale area marina protetta delle cinque terre ha aderito come area pilota al progetto stratus strategie ambientali per un turismo sostenibile che ha tra i suoi obiettivi la creazione di un marchio di qualità ambientale rivolto alle imprese turistiche legate al mare il percorso finanziato nell'ambito del programma interreg trasfrontaliero marittimo 2014-2020 sta implementando le attività progettuali nelle regioni Sardegna Liguria e la zona francese tra Provenza Costa Azzurra e Alp il comune di Maisala informa che anche in considerazione delle avverse condizioni meteo di questi giorni e della vastità del territorio comunale ha provveduto ad attivare per il giorno delle elezioni politiche domenica 4 marzo un servizio gratuito di accompagnamento al seggio al riguardo il sindaco Egidio Banti e la giunta hanno disposto il noleggio di un pulmino attrezzato che a cura del personale del comune raccoglierà gli elettori intenzionati a usufruire di questo servizio accompagnandoli presso la sede comunale di Maisana unico seggio istituito nel comune per informazione si possono chiamare gli uffici comunali è stato rinviato il convegno previsto per domani dal titolo l'accoglienza del malato in una società multiculturale l'incontro che si sarebbe dovuto svolgere nella sala multimediale di Tere Liguria Sud è stato rinviato a data da destinarsi 10 proposte per fare decollare il paese rilanciando il settore immobiliare sono queste sono quelle della PPC l'associazione dei piccoli proprietari case volte al rilancio del settore immobiliare che hanno ricevuto l'apprezzamento e il consenso delle forze politiche il servizio di Sergio Di Ofili dall'istituzione di un ministero per le politiche abitative della casa a un piano per la ricostruzione post terremoto dalle misure di contrasto al disagio abitativo alla costruzione di nuove case di edilizia pubblica residenziale 10 proposte per fare decollare il paese rilanciando il settore immobiliare sono quelle della PPC l'associazione piccoli proprietari case di cui è presidente lo spezzino Flavio Maccione volte al rilancio del settore immobiliare e che hanno ricevuto l'apprezzamento e il consenso delle forze politiche è significativo afferma Maccione come forze politiche dissimili abbiano saputo ben recepire gli input che la PPC ha voluto lanciare il dopo elezioni deve impegnare ad un confronto serrato e costruttivo con tutte le forze politiche i tempi sono maturi per poter pesare di più ed incidere sulle scelte del governo per il comparto casa che attrae interessi sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico ha concluso Maccione intanto a livello locale Giuliano Cavana responsabile dei rapporti con le istituzioni per la sede spezzina a PPC è stato nominato con mandato quinquennale membro dell'osservatorio edilizio che è un organo di supporto all'attività dell'amministrazione comunale con il compito di monitorare l'applicazione interpretazione e l'aggiornamento del regolamento edilizio e proporre soluzioni innovative anche di carattere organizzativo e procedurale Fondazione Carispezia ha stanziato la somma di 200.000 euro per la costituzione di un fondo emergenza casa volto a contrastare il fenomeno dell'emergenza abitativa nella provincia spezzina il fondo emergenza casa che si affianca allo strumento già attivo del microcredito per la casa la concessione di microprestiti a persone in difficoltà economica fino a un massimo di 5.000 euro rimborsabili in 5 anni è regolato da un protocollo di intesa sottoscritto da Fondazione Carispezia Caritas Diocesana e distretti sociosanitari provinciali un viaggio tra gli antichi e nuovi mestieri artigiani lo hanno avviato nei giorni scorsi grazie a Confartigianato i ragazzi sui banchi delle scuole spezzine i primi appuntamenti hanno coinvolto la scuola elementare dei vici l'incontro introdotto dalla funzionaria di Confartigianato Antonella Simone ha visto la conoscenza ai ragazzi la consegna scusate ai ragazzi del libricino edito dalla giunti editore di Firenze da grande vorrei fare l'artigiano un testo ideato appositamente per Confartigianato da Elisa Modugno che illustra in modo semplice ed immediato la realtà delle attività artigiane dalle più tradizionali a quelle legate ai settori della tecnologia dell'innovazione e della ricerca sarà presentato domani alle ore 16 nella struttura polivalente di Piano di Follo il libro di Ana Danca dal titolo Come vuole la vita il romanzo sarà presentato in occasione dell'inaugurazione della mostra La donna e l'arte organizzata in occasione dell'8 marzo dall'associazione culturale San Martino di Durasca e veniamo alle notizie di sport cominciamo col basket maschile Ospedaletti Chiavari e Sarzana sono queste le tre squadre che lo Spezia Taros dovrà affrontare per la seconda fase del campionato di Serie C Silver senza sosta dopo la conclusione della regular season si scende subito già domani sul parquet i bianconeri sono attesi proprio dalla trasferta in casa dei cugini sarzanesi trasferta che sarà caratterizzata da non poche assenze e dalla presenza di giocatori non al top continuiamo col basket dopo la pausa forzata per mal tempo l'avversario di Credit Agricole Carispezia sarà la Ceprini Costruzioni Orvieto che ospiterà le ragazze di coach Marco Corsolini domani alle ore 18.30 nella palestra di via Marconi a Porano finalmente arriviamo alla partita in ottime condizioni senza problemi fisici e con un cambio di atteggiamento da parte di tutti sono molto soddisfatto del lavoro svolto in queste due settimane ha detto il tecnico della Credit Agricole Carispezia Passiamo allo Spezia Spezia Calcio ho bisogno di una squadra che voglia stupire ancora il Cesena metterà in campo aggressività grinta cattiveria ma troveranno uno Spezia pronto a battagliare da far suo che sa giocare a calcio queste le parole di Mister Gallo in vista dell'incontro di domani alle 15 al picco contro il Cesena vediamo il servizio non avendo giocato il recupero è stato totale per tutti e quindi le scelte poi sono le scelte di domani saranno scelte in funzione di quella che è stata la settimana ma senza un carico di una partita quindi adesso vediamo però è chiaro che è diventata una settimana normale per quanto riguarda le scelte è una squadra che non deve ingannare non deve ingannare perché ha caratteristiche ben definite soprattutto negli avanti perché hanno gamba hanno velocità soprattutto Jallov e poi hanno Caccia voglio dire che è un bomber che ha fatto tantissimi gol in Serie B senza dimenticare Moncini che è un ragazzo che conosco bene è un ragazzo che ha fatto molto bene l'anno scorso in Lega Pro e quando è stato chiamato in causa ha fatto bene anche quest'anno in Serie B quindi sarà una partita non semplice poi come caratteristica più importante hanno la caratteristica del loro allenatore che è navigato esperto e che sa trasmettere grinta e agonismo in tutte le partite e quindi mi aspetto un Cesena che partirà per cercare di metterci in difficoltà con l'aggressività e le condizioni atmosferiche sicuramente agevolano la squadra che cercherà di portare via punti magari non con bel gioco ma con con grinta e con cattiveria dall'altra parte però troverà uno Spezia che sa giocare a calcio che che viene da una vittoria importantissima e strameritata contro la Salernitana e che però sa anche fare la guerra quando c'è da fare la guerra quindi in questo senso siamo pronti e siamo in chiusura vediamo le previsioni meteo per la giornata di domani è cessata l'allerta arancione sulla Liguria sia sulla costa che nell'entroterra declassata ad allerta gialla una ripresa dei fenomeni è prevista per domani nel Ponente mentre nello Spezzino soprattutto nelle aree costiere le temperature sono in aumento e le zone saranno interessate da piogge diffuse fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio i venti dai quadranti settentrionali ancora sostenuti al mattino tra Genova e Savona con raffiche di burrasca in graduale attenuazione nel corso della giornata mare tra mosso e molto mosso in aumento in serata fino ad agitato in particolare sulla costa di Levante le temperature comprese tra una minima di 4 gradi e una massima di 8 è tutto per questa edizione del TLS giornale vi ringrazio della cortese attenzione e a tutti auguro un buon proseguimento di serata arrivederci a tutti i